Direi di più che sia un grave danno alle nuove generazioni il fatto che nel gioco di squadra che pretende di recuperare questi bambini, questi ragazzi, l'elemento educativo, il progetto pedagogico viene sostanzialmente escluso e quasi che debba prevalere l'aspetto puramente medico. No, non è così, l'aspetto educativo è centrale e prima di impostare una terapia a sfondo psichiatrico bisogna chiedersi sistematicamente se tutti i basilari educativi sono stati rispettati. Grazie a tutti.